buongiorno a tutti ben ritrovati eccoci oggi con anna zanibelli scrittrice cremonese che manda in libreria questo suo nuovo libro il quadrato magico un thriller storico ambientato a cremona intorno a cremona si parte dal ritrovamento di una tomba templare in largo boccaccino senza dire senza esagerare nel nei dettagli che cosa possiamo dire di questo ma possiamo dire che nel 2020 a seguito di alcuni lavori di scavo appunto a ridosso della cattedrale di cremona viene trovata questa antichissima tomba di origine medievale e all'interno delle quali sono dipinte alcune croci rosse patenti che potrebbero farci pensare a una presenza sicura templare a cremona in quel periodo e da questo ritrovamento hanno un luogo una serie di omicidi di alcuni anziani appartenenti allo stesso ordine templare naturalmente ai giorni nostri perché il libro è ambientato in epoca contemporanea e che si snodano in diversi luoghi della nostra provincia e quindi questi anziani avvelenati e tatuati con le cinque parole del magico quadrato del sator un enigma storico dalle radici antichissime vengono appunto trovati morti in alcuni luoghi tra il cremonese e cremasco l'archeologa ludovica morenghi che si è occupata degli scavi della tomba e il poliziotto cristoforo beltrami cercheranno di fare luce sugli omicidi in una vera e propria corsa contro il tempo questo libro è un'occasione per raccontare alcune bellezze di cremona e dei dintorni e bellezze architettoniche storiche intendo e artistiche oppure semplicemente l'ambientazione perfetta per un thriller storico ma sicuramente il nostro territorio si presta molto perché nonostante sia una provincia piccola sono diversi luoghi ricchi di storia fascino ma soprattutto di misteri sui quali viene davvero voglia di indagare ed è quello che ho fatto io almeno ci ho provato andando letteralmente e fisicamente da una parte all'altra della nostra provincia alla ricerca di informazioni preziose su una storia misteriosa e sotterranea che naturalmente ancora oggi ci coinvolge e ci appartiene facciamo un piccolo tour allora quali sono le i punti i capisaldi di questa dell'indagine e contemporaneamente del nostro viaggio intorno a queste meraviglie dell'indagine sicuramente partendo dalla tomba trovato boccaccino quindi legata a tutta una serie di luoghi cremonesi della città appunto possiamo poi postarci a pieve terzani dove è uno dei pochi luoghi in italia in cui è presente il quadrato magico che questo enigma storico noi siamo fortunati perché abbiamo questa chiesa che è la chiesa della pieve dedicata san giovanni decollato risalente all'epoca medievale in cui c'è un frammento di questo quadrato su un mosaico a pavimento dopodiché postiamo poi a crema nel cremasco ma anche in tanti luoghi legati soprattutto in questo romanzo fatto riferimento al culto della madonna nera della vergine lauretana quindi chiese luoghi dedicati a questo culto dove l'effigie della vergine nera si trova sia su statue bassorilievi a freschi e vi invito davvero a visitare questi luoghi che poi cito nel libro con relative fotografie di dascalie ci sono altri sette otto posti e chiese in cui si può andare lo scopriranno i nostri lettori tutte caratterizzate dalla presenza della madonna nera la madonna nera perché la madonna nera perché il culto lauretano si è radicato a un certo punto nel territorio cremonese grazie anche alla presenza della famiglia visconti e sforza quindi bianca maria visconti che ha fortemente voluto eradicarsi di questo culto anche nel territorio perché era una figura molto devota alla madonna nera e poi la madonna nera era particolarmente cara ai cavalieri templari quindi c'è anche un collegamento relativo a queste figure di monaci cavalieri vissute nel medioevo e di cui parlo ampiamente nel libro ecco è una presenza radicata e importante a cremona quella dei cavalieri templari tu lo racconti nel tuo libro ti risulta che ci siano sono stati in passato ci sono anche anche adesso che sono presenti ancora oggi alcuni ordini templari quindi cavallereschi contemporanei di di gente volontaria che attua tante cose belle sul territorio si dice che la letteratura sia un antidoto contro le malattie della vita ci daresti un paio di pillole di questo antidoto suggerendo due libri da leggere se volete addentrarvi in un mondo medievale fatto di superstizioni inquisizione torture caccia alle streghe vi invito a leggere il medioevo superstizioso di jean claude smith se invece volete una lettura più divertente tutta al femminile vi suggerisco la regina della casa di sophie quinsella che è una delle mie autrici preferite molto bene grazie per essere stata con noi e grazie a chi ci ha seguito grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti